L'elezione dell'Italia membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e il coronamento degli sforzi della nostra diplomazia sotto la guida dei governi che si sono succeduti. Così questa mattina il Capo dello Stato intervenuto al Campus ONU di Torino che ospita le giornate delle Nazioni Unite contro il lavoro forzato. Il servizio dell'inviato Paolo Giuntella. L'ingresso dell'Italia come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per due anni è il riconoscimento di quanto sta facendo e ha fatto in campo internazionale e questo è il messaggio centrale dell'intervento del Presidente Napolitano alle giornate internazionali delle Nazioni Unite di Torino al Campus Torinese dell'ONU. E' il coronamento degli sforzi tenacemente dispiegati dalla nostra diplomazia sotto la guida dei governi che si sono succeduti. E' il riconoscimento di cui prendiamo atto con orgoglio del ruolo svolto dall'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite sin da quando nel 1955 fu ammessa a farne parte. Napolitano rivendica con orgoglio il fatto che l'Italia è il sesto contribuente del bilancio ordinario dell'ONU e sta diventando una sede strategica delle Nazioni Unite nel Consiglio di Sicurezza come membro non permanente. L'Italia sosterrà il metodo multilaterale e il ruolo dell'ONU di garante della legalità internazionale. Ma sul tema della giornata ONU dedicata al lavoro forzato c'è anche un durissimo sfogo del Presidente a braccio nel suo discorso. Fenomeno spaventoso che mai avremmo pensato di dover rivivere in questo secolo e che addirittura dà luogo oggi, cosa senza precedenti, in Italia a indagini della magistratura per il reato di riduzione in schiavitù.